No, 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 diciamo dissentendo soltanto su questo ultimo punto rispetto alla RAI, grazie Piero, grazie a tutti voi, grazie di cuore per l'accoglienza, grazie al Presidente Zingaretti che ha condiviso questo paio d'ore a Pomezia, ma questo passaggio all'IRBM Science Park che è, io credo, un qualcosa di cui mi riferisco alla stampa, ai media, alle tv, dovremmo parlare di più lo dico innanzitutto rendendo omaggio a chi accettando una sfida che sembrava impossibile ha salvato questo luogo e lo dico pensando alle tante donne e uomini che vi lavorano e che sono la colonna straordinaria di questa realtà e lasciatemi dire anche che sono una struttura di cui noi vogliamo sentirci orgogliosi come Italia io conoscevo la storia soltanto per sentito dire, poi come sempre quando ci metti il naso è tutta un'altra roba però se ci pensate qualche mese fa, anzi ti dirò, venne in una discussione internazionale con, non mi ricordo se era il G7 in uno degli incontri internazionali, nella cartellina che avevo, posi con grande forza il tema che nella lotta contro Ebola, Ebola come lo chiamano loro, noi avevamo fatto un grandissimo lavoro come Italia grazie a una realtà che appunto è questa realtà, l'IRBM di Pomezia e per lì, come dire, mi era sottolineato, vedevo i miei interlocutori, non dico sorpresi però interessati a capire di più lo vorrei dire a chi ci segue ora da casa, alle televisioni, alle radio, ai giornali qui si è isolato il virus e devo dire che qui si è data una risposta assieme a un'altra struttura americana a una struttura americana di immediato ed efficace impatto perché l'Italia è anche questo e se pensate come nasce questa storia salite le scale, trovate, il 1990 Merck e Sigma Tau insieme fanno partire un science park qui scelgono dei cervelli questi cervelli, alcuni dei quali sono ancora qua rimangono dentro la grande famiglia della Merck quando la Merck acquisisce il 50% di Sigma Tau poi alla fine, cos'è, il 2009? nel 2009 c'è ancora un'azione di fusione da parte di Merck con un altro grande gruppo mondiale il fatto sta che questa realtà deve essere dismessa deve essere cancellata pensate a cosa stiamo dicendo, nel 2009 qualcuno vuole tracciare una croce su questa struttura che pure ha fatto dei farmaci di straordinario impatto e importanza nel mondo AIDS e non solo che pure è una realtà che ha dato vita a storie incredibili viene cancellata perché nella realtà aziendale nella realtà dell'acquisizione questa realtà deve sparire e qui partono i pazzi vale a dire quelli che decidono di investirci una famiglia che ci crede che coinvolgono l'asset più forte che ha l'Italia che sono i cervelli degli italiani e non solo degli italiani e che da Pomezia fa ripartire una storia che sembrava finita quanti eravate nel 2009? 25 persone 22 22 o 25? 3 le avevano nascosti 22 22 più poi 3 se le hanno arrivati dopo e che cavolo non ho contato me mia figlia e mio genio ok perfetto quindi 22 più 3 due squadre di calcio da questo nucleo parte una storia che oggi porta ad avere quante persone lavorano qui? 250 250 persone una cinquantina assunte lo scorso anno con i Jobs Act che porta ad avere occasioni di ricerca uniche nel mondo che porta ad avere delle persone di straordinaria qualità che ci rendono orgogliosi di essere italiani il mio non è un contro racconto la mia non è una contro narrativa la mia non è uno storytelling per negare i problemi del nostro paese io vorrei soltanto che si affermasse la realtà questa è l'Italia perché per anni ci siamo raccontati soltanto le cose che non andavano bene ci siamo depressi tutti insieme nel guardare l'Italia come un paese finito e invece l'Italia è un paese infinito che riesce a tirare fuori le cose più straordinarie anche laddove non te le aspetti naturalmente questo non vuol dire niente perché lo ha detto molto bene c'è bisogno di aver fame di avere il coltello tra i denti di avere il desiderio di costruire il futuro ogni momento ma vale per tutti questo vale per un ricercatore che sa che accetta il rischio della sconfitta immaginate un progetto di ricerca a dieci anni e poi alla fine dalla mattina alla sera quel progetto dice no basta stop è chiuso immaginate cosa significa intervenire su un progetto che altri hanno portato avanti o fare un tratto di strada e poi lasciare ad altri colleghi di farsi dare una mano è una metafora bellissima di quello che è un paese di quella che è una comunità c'è ancora molto da fare c'è ancora molto da fare nel paese ci sono ancora tante riforme da fare tante cose da cambiare però l'Italia è questa cosa qua è l'Italia che quando si rimette in moto può essere leader mondiale chi avete di leader europei con quanti ve la giocate? due, tre gruppi grandi a livello europeo quant'è la siete nei primi cinque immagini a livello europeo pura solo ricerca non si può dire le classifiche perché sono molte variabili benissimo quindi di occupi che materia diciamo non si può fare gradatorie siamo ben rappresentati questa è politica pura ben rappresentata diciamo una bella realtà ben rappresentata indipendentemente da come sono le varie classifiche posso dirvi una cosa semplice finché c'è un cervello in Italia che ha voglia di scoprire qualcosa di nuovo finché c'è questo c'è un paese che è coerente con la sua storia l'Italia è sempre stata sta roba qua soltanto negli ultimi anni ci siamo totalmente autofustigati con tutte le cose che non andavano ora io dico le cose che non andavano ci sono c'erano ce ne sono un po' meno dovremo sempre combatterle giorno dopo giorno una sfida gigantesca per la legalità per la trasparenza per l'onestà una sfida fantastica per il merito per la qualità però c'è anche un paese che ha tutte le caratteristiche per poter immaginare il futuro io mi aspetto che IRBM sia presto dentro il grande progetto di Expo mi aspetto che IRBM sia presto dentro con le proprie collaborazioni non soltanto con il San Raffaele che è qua con noi con le università romane con tanti centri di ricerca pubblici e privati alle vette delle classifiche internazionali ma mi aspetto anche e soprattutto che ci sia un racconto dove qualche volta si prova anche a far notare che le cose che vanno bene hanno bisogno di essere incoraggiate e allora io la dico così siccome noi non abbiamo nessun merito in questi risultati siccome non è certo merito mio io non centro assolutamente niente con i grandi risultati delle IRBM fatemi dire una piccola cosa grazie grazie a nome dell'Italia grazie a nome di un paese che è un paese che ha un passato meraviglioso ma che ha tanta fame di futuro che ha voglia di costruire un futuro che non si accontenta di vivere di ricordi qui c'è un paese che è un paese laboratorio non è soltanto un paese museo noi siamo felici dei musei che abbiamo vogliamo gestirli sempre meglio ma siamo fieri di questi laboratori siamo fieri di questi cervelli allora l'augurio è che se avete fatto soltanto dal 2009 al 2016 in sette anni appena siete passati appena dal 22 a 10 volte tanto noi ci aspettiamo che nei prossimi sette anni miglioriate ancora 10 volte tanto il ritmo di crescita ci può essere sufficiente ma a ciascuno di voi l'augurio davvero dal profondo del cuore non soltanto di dare una mano come paese perché noi possiamo risolvere i problemi credo che nell'arco delle prossime settimane uscirà un piano della ricerca da 2 miliardi e mezzo di euro finalmente si torna a investire in questo settore finalmente si torna a avere il segno più nella ricerca perché la ricerca è il futuro certo una parte potrà andare male è la ricerca se andava bene non era la ricerca era un lavoro d'ufficio è evidente che la ricerca può ammettere il fallimento ma accanto a questo la gratitudine mia personale del Presidente della Regione di tutte le donne e gli uomini che rappresentano l'Italia perché con il vostro lavoro ci rendete in grado di essere innamorati del nostro futuro almeno quanto lo siamo del nostro passato un gigantesco grazie e un grande boccalupo grazie a tutti 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 grazie a tutti